Benvenuto o bentornati nel canale. Oggi parliamo di DJI, DJI sforna droni come non ci fossero domani e oggi andiamo a parlare di una interessantissima novità che ha fatto proprio nelle ultime ore il giro della rete, del web il presunto nuovo drone Mavic 3 Pro, appunto DJI, che poi presunto non è perché ci sono già molte foto anche della confezione vabbè ve ne parlo in questo video con le caratteristiche e quant'altro ma prima come al solito che dire se volete fate un piccolo aiuto al canale semplicemente con un like qua sotto e con un'iscrizione se non siete ancora iscritti dunque si inizia come molti di voi saprete il Mavic 3 è il drone diciamo consumer di punta della DJI anche se diciamo che in tantissimi giacci lavorano e viene offerto in diverse varianti e questo per soddisfare ovviamente le diverse esigenze dei consumatori e anche e soprattutto anche di aziende appunto che ci lavorano tuttavia secondo le ultime informazioni trapelate in rete sembra che DJI diciamo che DJI abbia in serbo una bella sorpresa per chi è amante dei droni della tecnologia soprattutto di questo tipo di drone ovvero il Mavic 3 Pro che è dotato di tre telecamere Assemblad invece di due ma cosa significa tutto questo? ma in sostanza il nuovo drone potrebbe offrire uno zoom ottico di qualità superiore rispetto ai modelli in circolazione attuale e potrebbe anche rappresentare la prima configurazione a tre telecamere per un drone consumer non solo appunto di DJI ma in generale proprio sto parlando di drone consumer perché il Mavic 3 è a tutti gli effetti un drone consumer tuttavia al momento non si conoscono ancora decisamente i dettagli precisi e le specifiche tecniche di questo nuovo drone e non sappiamo nemmeno quanto sarà il prezzo e la data esatta di rilascio anche se sembra che arrivi a breve ciò che sappiamo è che il later DJI di lunga data Osita LV aveva già prefigurato lo sviluppo di un prodotto del genere già nell'agosto 2022 e le immagini trapelate sembra proprio confermare quelle che erano a suo tempo proprio le sue previsioni come ormai ci ha abituato a fare secondo Osita LV il nuovo Mavic 3 Pro potrebbe essere dotato di un sensore CMOS da 4 terzi con un obiettivo grandangolare da 24 mm un CMOS da 1 pollice con obiettivo da 50 mm e un CMOS da mezzo pollice con un obiettivo da 160 mm inoltre sembra che il nuovo drone potrebbe essere disponibile in varie configurazioni tra cui ovviamente il Mavic 3 Pro con il DJI RC il Mavic 3 Pro con il DJI RC Pro e il Mavic 3 Pro Cine Premium Bundle tre versioni e arriveremo un po' a trattare il prezzo ora a breve DJI diciamo che continua a sfornare droni ogni mese rendendo difficile ovviamente per i consumatori rimanere al passo con le ultime novità di mercato appunto dei suoi droni la società ha ovviamente una gamma completa di droni che spaziano da quelli in commercio dal Mini 2 che è sempre un drone fantastico perfetto perché inizia fino a matrice utilizzato da professionisti per scopi ovviamente lavorativi e commerciali una delle problematiche che potrebbero emergere con questo nuovo drone sta per arrivare ovvero il Mavic 3 Pro è ovviamente il prezzo DJI è noto per offrire prodotti ovviamente di alta qualità questo nessuno dice l'inverso ma anche a prezzi piuttosto elevati e con la configurazione a tre camere la presenza di una tecnologia a alto livello è sicuramente più che probabile è quasi certo che il prezzo del Mavic 3 Pro sarà decisamente alto non sappiamo ancora quali saranno si parla addirittura dai 3000 ovviamente in su ciò potrebbe limitare ovviamente la sua accessibilità ad un mercato distritto di consumatori che possono permettersi di spendere un po' di più per un drone ovviamente diciamo professionale di alta qualità a discapoto del classico consumatore che ovviamente non può sempre stare al passo e permettersi questo tipo di droni in sintesi il Mavic 3 Pro potrebbe rappresentare un'importante evoluzione nella tecnologia dei droni fotografici ma il suo prezzo elevato potrebbe nello stesso tempo limitarne ovviamente l'accessibilità ad un mercato ristretto di persone tuttavia la forte reputazione che ha ovviamente DJI e la continua innovazione potrebbero decisamente ancora di più rendere questo drone una scelta davvero importante per un professionista che vuol fare cose di alta e grande qualità come sempre però bisognerà aspettare aspettare qualche giorno ma ormai sicuramente la notizia è di fatto questa anche se prendiamo queste informazioni con le pinze aspettiamo le conferme ufficiali ma penso ci siamo in ogni caso se le previsioni si avverranno il nuovo Mavic 3 Pro potrebbe appunto rappresentare questa novità davvero importante che vedremo ovviamente nei prossimi giorni a breve e forse la DJI Flight 2.0 sarà inaugurata proprio da lui non come avevo capito dalle informazioni che mi erano arrivate si arrivava con un nuovo drone ma tutti gli indizi portavano a un Air 3 ma probabilmente sarà proprio il Mavic 3 Pro a inaugurare la 2.0 e voi cosa ne pensate di questa notizia? siete curiosi di scoprire cosa prevederà davvero questo Mavic 3 Pro della DJI? fatemi sapere la vostra opinione come al solito sotto nei commenti ci sentite alla prossima un abbraccione ciao dai bighe dalla Toscana ciao 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 ciao